Siamo qua per inaugurare questa nuova sede. È una sede che è nuova nel senso che sta rinnovata. È stata resa più moderna, più attrezzata, più efficiente e più confortevole per i nostri operai. Perché l'idea è quella, noi dobbiamo fare alta qualità, dobbiamo tenere le persone a un'alta efficienza ma a un'alta attenzione. Questo non può essere fatto se non c'è un decente ambiente di lavoro. Questo è il primo obiettivo e per fortuna è stato raggiunto. Il secondo obiettivo è quello di crescere. Stiamo crescendo con i clienti nostri normali, cioè i negozi di alta gamma. Abbiamo appena finito Pitti e è nato molto bene. Crediamo in quest'anno di riuscire a fare da un 15% a un 20% in più di fatturato. E questo avrà delle credute sicuramente anche nei posti di lavoro perché non si può fare una cosa del genere senza la giusta dimensione in termini di forza lavoro, attività produttiva. Noi facciamo un capo che è altamente fatto a mano e quindi è ovvio che ci debbano essere altrettante persone, quanti sono i capi che escono al giorno. Siamo qui per far capire al territorio, alle autorità ma anche ai clienti privati che ci siamo, che ci siamo rinnovati, siamo presenti, stiamo crescendo. Un altro motivo è quello di far capire che da oggi noi vorremmo vendere o rendere disponibili più che vendere le giacche che adesso erano con il nostro marchio o con marchi di altri, disponibili soltanto a New York, a Londra, a Milano, a Torino, a Singapore con prezzi retail da 2.000-3.000 euro. Sono disponibili anche qua per i clienti del luogo che possono venire ad avere un servizio su misura completo con prezzi dimezzati. Quello che si paga ovviamente comprandolo direttamente non ha il mark up del retailer. Se la crescita sarà quella che credo, che spero, ci sarà sicuramente. Ora noi siamo a 45, quasi 50, se cresciamo del 20% ci sarà un 20% di forza lavoro in più da dover aggiungere. È chiaro che si fa in maniera molto oculata perché sono costi fissi, bisogna stare attenti a non anticipare troppo. Che già bisogna anticipare perché per formare una persona ci vogliono almeno 6 mesi, un anno, per cui già siamo sempre un po' in avanti. Abbiamo sempre un po' più lavoratori di quelli che servono per ogni motivo. C'è anche questi motivi che ho appena detto.